Siamo arrivati alla dodicesima edizione, la dedichiamo tutta a questi 700 anni per Dante Alighieri. Diciamo è un punto d'arrivo rispetto a quello che abbiamo fatto anche nel mese di marzo, sempre con Trasacro e Sacromonte, con Varese e Regge Dante che ha avuto un successo enorme e adesso tornano alla terrazza del Mosè alcuni grandi nomi del teatro italiano. Partiamo il primo di luglio con Paola Gasman e Ugo Pagliai, quindi due grandi della prosa italiana. Poi gli spettacoli continueranno per tutto luglio, ma le grandi novità di quest'anno sono le belle e importanti collaborazioni con altre realtà che portano e coproducono a tutti gli effetti degli spettacoli insieme a noi. Penso a Caracoro, un teatro con cui nasce veramente un'edizione legata, collegata insieme. Penso alla stagione musicale diretta da Fabio Sartorelli, penso al Museo di Villapanza e alla direttrice Anna Bernardini. Insomma l'idea è quella di fare una squadra che possa lavorare sulla cultura varese in maniera forte.